Mamma mia, la mia reputazione guarda è finita Buongiorno, sono Vink Oggi andremo a ballare con la faccia Sì, avete capito bene, andremo a ballare con la faccia Avete presente nelle sale giochi, ora non so se effettivamente c'è ancora Ma c'era quel grande schermo che ti diceva quale passi dovevi muovere E c'erano delle frecce a destra, a sinistra, in alto e a sinistra Beh comunque, praticamente il gioco ti diceva che passo dovevi fare E tu con i piedi dovevi schiacciare le singole freccette, magari anche contemporaneamente Ormai l'era è cambiata, basta ballare con i piedi Adesso si balla con la faccia L'applicazione in questione si chiama Face Dance E praticamente ti dice che faccia devi fare E facendo le facce giuste ti dà dei punteggi E quindi iniziamo subito a provarla Non vedo l'ora di ballare con la faccia Mentre carica l'applicazione vi spiego dove ho trovato praticamente questo gioco Scorrendo sulla home di Facebook Trovo un video di una ragazza che fa tipo delle buffe facce E alla fine scopro che è un'applicazione reale Esiste davvero Cioè ti permette di ballare con la faccia Quante volte l'ho detto ballare con la faccia non lo so neanch'io Ma sono così contento di utilizzare questa applicazione che ho voluto fare pure un video Bamba alle ciance iniziamo subito a ballare Oh, iniziamo Ready, si ready, sono tutto ready sono Start Mi, è la musica Minchia, mi sto gasando Allora, praticamente cresci i fails e dovresti fare tutte le facce che vuoi Mamma mia, la mia reputazione guarda è finita Sono stanco Ah, praticamente ho fatto il nuovo record Ho fatto 1220 punti Cioè Sono un maestro Voglio riprovare questa volta con un'altra musica Proviamo questa No, questa già l'ho fatta, mannaggia Start Start Ballare con la faccia Vedete che è faticoso Cioè ora io faccio un appello Voi non dovete andare più in palestra né correre Dovete scaricarvi questa applicazione Lo sapete quanti chili perdete Voi dovete scaricarvi questa applicazione perché praticamente Sudate Se i miei capelli vi hanno fatto bene lasciatemi un pollice in su E un commento qui sotto E fatemi sapere se già conoscevate questa applicazione E se l'avete provata Vi invito a seguirmi su Instagram Al nome è Vinklob E se ancora non vi siete iscritti Mi raccomando Iscrivetevi E noi ci vediamo un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.